Siamo con l'assessore Rigi e due consiglieri della coalizione dei sostenibili che poi si presenteranno loro. La prima domanda che volevo fare a Rigi era riferita in questi quattro anni dove vi siete impegnati, dove tutta la squadra si è impegnata sulla raccolta differenziata, quali sono stati i risultati ottenuti? Ma mi scappo un po' da ridere a parte da Rigi perché ormai l'hai scritto da tutte le parti, l'hai detto in consiglio comunale, non c'è persona che ti lodi da questo punto di vista, diventa quasi superfluo dirlo, ma in modo molto molto semplice, molto sintetico, senza entrare in tutti i dettagli. Qualcosa invece si può dire, poi non ti diremo che sei bravo perché l'avranno già detto gli altri, ma un riassuntino veloce di questa cosa penso si possa fare. Innanzitutto buongiorno a tutti, due puntualizzazioni dovute. La prima è che innovazione e collaborazione sono due facce della stessa medaglia, quindi non si va da nessuna parte senza la piena collaborazione dei cittadini e nel caso specifico senza il pieno coinvolgimento di ogni soggetto coinvolto nel processo. Per quanto riguarda i servizi di igiene urbana, se oggi siamo qui a presentare risultati sia in termini di incremento della differenziata che di abbattimento del canone, è proprio grazie al contributo del singolo cittadino. Quindi che l'odino me è solo perché io sono deputato e lo delego a questo servizio. Dietro c'è il lavoro della squadra che ha pensato al progetto e continua ogni giorno a implementarlo, ma c'è il lavoro quotidiano di ogni singolo cittadino. Quindi direi che ne approfitto per estendere appunto anche da qui il mio ringraziamento, non mi stancherò mai di ripeterlo. Senza la collaborazione di tutti avremmo presentato un bel progetto e probabilmente i risultati sarebbero stati ben sotto le aspettative. In realtà quattro anni fa è nata l'idea, praticamente siamo partiti esattamente due anni fa, a maggio 2013 abbiamo iniziato a distribuire i sacchi con microchip e da subito si è registrata, come sapete, una netta riduzione del secco indifferenziato. Abbiamo ridotto del 50% il volume di secco indifferenziato. Negli anni siamo passati dal 55,7%, 58% di differenziata, fino a un ufficioso ma attendibile 72% del 2014. Diciamo che il salto grosso lo abbiamo fatto nel primo anno. Adesso piano piano la curva si sta andando ad appiattire, stiamo crescendo di 1-2 punti percentuali, però direi che quello che era un'uteopia, un sogno all'inizio di raggiungere il 75% diventa sempre più vicino come risultato da poter raggiungere. Quindi da un lato ci sono stati forti benefici ambientali. Incrementare la percentuale di differenziata vuol dire appunto gestire al meglio il processo, vuol dire che malnate diventa un po' anche il riferimento per altri comuni che vengono a chiedere il nostro capitolato, vengono a capire che cosa come servizio stiamo pensando al contorno per coinvolgere e motivare sempre di più il cittadino. Da ultimo, lo sappiamo, anche quest'anno abbiamo inaugurato il centro del riuso perché ovviamente ci sono tutta una serie di attività, di progetti che bisogna portare avanti in parallelo all'erogazione del servizio per continuare a motivare e a sensibilizzare la cittadinanza. Dall'altro, come dicevi tu, abbattimento delle tariffe. Allora, se i cittadini sono quelli che sono stati più bravi di tutti, oltre all'assessore, i cittadini che cosa ci guadagnano? Bisogna essere pragmatici in questo caso. Nel 2015 ci guadagnano il 25% di abbattimento della tariffa fissa. La tariffa del servizio è composta appunto per una parte fissa che pesa grosso modo il 65% sul totale, una parte variabile che abbiamo deciso di commisurare al numero di sacchi. Sulla parte variabile, ogni cittadino risparmia in base a quanto è bravo. Quindi, siccome tu paghi il numero di sacchi che vai a esporre a bordo strada, e qui tengo a ribadirlo, il numero di sacchi, quindi va a numero e non a peso di sacchi, risparmi tanto quanti sacchi hai risparmiato, tra virgolette, rispetto allo standard precedente. Mentre l'operazione che siamo riusciti a fare quest'anno è un abbattimento lineare per tutti sulla tariffa fissa. Un 25% che noi adesso abbiamo dati alla mano e il 70% della popolazione di malnate vedrà un risparmio in bolletta di circa 40-50 euro, no scusate, 30 euro sulla parte fissa. A questa, come dicevo prima, deve essere sommato il risparmio che ognuno ha ottenuto sulla parte variabile. Statisticamente sappiamo che l'87% della popolazione sta andando a risparmiare sulla parte variabile. Per le famiglie composte da due, da tre, da quattro componenti che costituiscono il grosso della cittadina, sappiamo che anche per la parte variabile i risparmi saranno compresi tra i 20 e i 30 euro. Quindi sommando le due voci, in bolletta, ognuno dovrebbe leggere un meno 50 euro rispetto a quello che pagava lo scorso anno. Una cosa che non so, Rigi, ma questa poi diventa una cosa consolidata o è una cosa che si riferisce a quest'anno e poi l'anno 21 si vedrà? Grazie della domanda. La speranza è che diventi strutturale. Questo è un unatantum dovuto al fatto che siamo riusciti ad abbattere il canone. Perché? Perché ci sono sommate tre voci. Lo sconto buona raccolta, un recupero insoluti sull'appalto precedente e il fatto che nel piano finanziario dello scorso anno l'appaltatore avesse stimato un gettito atteso da un numero di sacchi che in realtà si è rivelato leggermente superiore. La sovrafatturazione ce la siamo fatta ridare. Ecco che la somma delle tre voci dà questo sconto. Sappiamo però già che da 1 gennaio a 31 maggio del 2015 il trend è quello. Quindi salvo default, stravolgimenti o cose strane, siamo ragionevolmente convinti che anche per l'anno prossimo si possa replicare questa scontistica. C'era un signore lì nel Consiglio Comunale che mi chiedeva ma se mi manca un sacco e vado a comperarlo, cosa mi costa? Deve fare così? Cioè se io ho finito i miei sacchi, cosa mi costa e cosa devo fare? Allora, per quanto riguarda i sacchi di plastica e umido, vado all'ecosportello e ne ritiro quanti voglio. Quello con microchip mi consegnano la mazzetta da 10. Io l'ho finita ma io pago i sacchi che espongo a bordo strada, quindi il principio non è che io pago il singolo sacco che vado a chiedere. Io pago quelli che espongo, quindi quando sono arrivato a 30 sacchi ho pagato i miei 30. Al 31esimo pagherò dai 31 in avanti. I sacchi li ritiro gratis e li pago dopo. Assolutamente non ci sono costi aggiuntivi per la mazzetta integrativa. I sacchi ne posso ritirare quanti ne voglio. E' ovvio che su quello, sulla mazzetta di sacchi integrativa, che è una puntualizzazione di questi tempi utile. Direi che appunto... Posso ritirare un sacco pieno di mazzetti. Quindi alla fine il cittadino è libero di andarne a chiedere quanti ne vuole. E' ovvio che quelli con microchip si pagano al momento in cui io li espongo e me li ritirano. Va bene, sentivo nel Consiglio Comunale che in qualche modo avete anche risolto il problema dei rifiuti tipo ospedalieri. Mi sembrava una buona notizia se velocemente dici cosa devono fare, come si devono comportare. Allora, fino allo scorso anno gli utenti che facevano uso dei presidi medici usa e getta, quindi i classici pannoloni o traverse per intendersi, dovevano presentare una idonea documentazione medica corredata da una richiesta all'Ecosportello, a fronte della quale ricevevano 80 euro di sconto. Quest'anno invece siamo andati ad approvare un piano finanziario che ha portato all'azzeramento della tariffa variabile. Quindi comunicheremo adesso ai 117 che hanno fatto richiesta, ma cercheremo di... Quindi rimane sempre l'obbligo di fare la richiesta. Assolutamente sì, perché ogni anno... Il medico. Il medico deve fare la certificazione che attesti l'uso dei presidi e poi c'è un modulino da compilare e consegnare all'Ecosportello a corredo che registra l'anagrafica, il numero di posizione della Tari. A fronte di quello, quest'anno, a partire dal 2015, la tariffa variabile per queste utenze viene azzerata. Quindi qualsiasi sia il numero di sacchi esposti non pagheranno. Ma questo non vale per i bambini? Questo non vale per i bambini perché viene mantenuto il bonus dello scorso anno. Quindi è uno scontro generazionale. Ma oddio, uno scontro generazionale che però in un caso si traduce anche lì in un beneficio più o meno paritetico e ti spiego perché. Abbiamo fatto la simulazione del mancato gettito dovuto al bonus di 80 euro e abbiamo scoperto che ci è costato 9200 euro. Abbiamo fatto la simulazione nell'andare ad azzerare la tariffa variabile e ci mancavano 9800 euro. Quindi da questi due numeri capisci che il bonus da 80 piuttosto che l'azzeramento della tariffa variabile per l'utenza poco cambia. Più una questione di principio e anche per incentivare il fatto di chi fa uso di questi presidi di non arrivare a riempire il sacco oltre modo ma di poter permettersi di esporne con maggiore frequenza. Tra le varie iniziative che l'assessorato porta avanti c'è questo che abbiamo sul tavolo tutte e due che è questo e che è poi questo verdi che è riferito agli ecopunti. C'è questa Save the Date. Che cazzo, che razza di roba è questa roba qui? Come è venuta fuori Save the Date? Gli esperti della comunicazione. No, vabbè, è un modo per attirare l'attenzione su in realtà la presentazione oltre che dell'aggiornamento di cui stiamo parlando anche di due altre iniziative più che una. Il 17 alle 21 in Aula Magna spiegheremo ai cittadini quelle che sono l'esito dei primi quattro mesi di attivazione del centro di riuso e poi ecopunti. Ecopunti è un progetto strutturato da un lato per incentivare e promuovere il commercio locale e dall'altro per premiare le azioni virtuose dei cittadini. Proviamo a sintetizzare in breve il funzionamento, poi nelle case di ognuno sta arrivando l'opuscolo. Però facendo un esempio, Mario Rossi che per sua abitudine va in piattaforma a conferire rifiuti dalla fine del mese di giugno in avanti, ogni volta che accederà in piattaforma per un massimo di quattro volte al mese maturerà 100 punti. Ogni volta che andrà a ritirare un oggetto al centro del riuso maturerà 100 punti. Se farà del volontariato come nonno vigile maturerà 800 punti. Questi punti arriveranno a un montante massimo e verranno convertiti in buoni sconto. Cosa se ne fa Mario Rossi di questo buono sconto? Andrà in uno dei 38 esercenti che hanno aderito al progetto e potrà spenderlo. Potrà spenderlo e ognuno di questi esercenti ha modulato la scontistica a piacimento. Ad esempio ci sono dei ristoranti che se vai nelle giornate di buco ti fanno il 20-30% di sconto. Alcuna cosa Riggi, me lo dicono loro quanti punti gli devo portare per avere lo sconto? No, sul regolamento c'è scritto che ogni sconto, ogni 200 punti maturi un ecosconto. Ogni 200 punti maturi un ecosconto e ovviamente non dà gratuità. È una fidelizzazione. Ed ecco dove è il meccanismo che va a promuovere il commercio locale. Perché l'obiettivo principale è spostare l'abitudine di spesa del cittadino malnatese. Se io ho l'opportunità di avere una scontistica su un prodotto che trovo a malnate ma anche a Varese e decido di stare a malnate perché ho quell'ulteriore sconto, ecco che ho fatto entrare nell'esercizio commerciale un potenziale cliente in più e ho raggiunto anche questo obiettivo. Direi da un lato sì vogliamo andare a premiare le azioni ambientali, sociali e quant'altro ma il progetto è rivolto principalmente agli esercizi commerciali che hanno tra l'altro l'opportunità con questo progetto di avere un anno intero di vetrina, chiamiamola così, sia sul sito che verrà creato appositamente sarà attivo infatti da fine mese il sito ecopunti.it in cui ogni utente entrando vedrà proprio una vera vetrina dove divise per categorie merceologiche ci sarà l'insegna del negozio e la scontistica applicata e poi avrà nelle case l'opuscolo, quindi è una sorta di pubblicità per un anno che offriamo agli esercizi aderenti. Queste sono le ultime cose, torniamo un pochino indietro. Noi abbiamo riempito i nostri tetti pubblici con i pannelli fotovoltaici e questa è stata sicuramente una bella iniziativa. Veramente in soldoni, il comune di Malnate nel fare questa operazione che ha fatto naturalmente a costo zero nell'applicazione dei pannelli che risultato ha nella bolletta elettrica in questo caso? Come ritorno? Sì, hai correttamente detto, è stato possibile effettuare questo intervento grazie a un partenariato pubblico-privato, quindi cosa è successo? Noi abbiamo messo a disposizione le coperture di tre nostri stabili a una società che ci ha impiantato la sua macchina per produrre energia. Nello specifico al palazzetto comunale abbiamo installato circa 80-82 kilowatt potenza di fotovoltaico, alla scuola Sabine, alla scuola Galbani 19 kilowatt, quindi un totale di 120-1 kilowatt con questa formula a cui però devono essere aggiunti anche ulteriore 9 kilowatt che abbiamo installato sulla BAI grazie a un bando vinto con il Ministero dell'Ambiente e il bando del Sole a scuola. La formula qual è? Verso il soggetto che ha messo la sua macchina per produrre energia. Per 20 anni installi la tua macchina, la manutieni, mi manutieni le coperture e in cambio prendi il GSE, quindi il contributo dello Stato, e il 50% dello scambio sul posto altrove. Al comune cosa resta? Il restante 50% dello scambio sul posto altrove è tutto l'autoconsumo. Poi lo scambio sul posto altrove è un meccanismo un po' particolare consentito alle pubbliche amministrazioni che consente di associare la produzione fatta su uno stabile al consumo di uno stabile diverso. Noi abbiamo associato a questi impianti gli edifici un po' più energivori e tra risparmio in bolletta e contributo dato dallo Stato oscilliamo tra i 12.000 e i 14.000 euro all'anno per 20 anni, quindi diciamo che è verosimilmente... La bolletta del comune è diminuita di 14.000 euro. Non è corretto dire è diminuita di 14.000 euro perché... Diamo meno, come vuoi che te la dica. Contemporaneamente cosa succede? L'accisa, quindi il costo dell'energia va aumentando, quindi tu percepisci magari uno stallo del costo che non è... i 12-14.000 vanno considerati anche per il fatto che non vai a pagare l'incremento tariffario. Più quello che ci dà lo Stato per lo scambio sul posto altrove, allora il totale dell'uno più l'altro porta 12-14.000 per 20 anni, quindi ecco che noi se tutto va come deve riusciremo a, tra virgolette, portare a casa 220-240.000 euro in 20 anni, come dicevi a costo zero, nel senso che poi il carico degli oneri di manutenzione e il resto è a carico dell'azienda. Sentivo che state pensando a qualcosa del genere anche per quanto riguarda il riscaldamento, però mi sembra che la cifra che ho sentito mi sembra bassa per partire con un'operazione un po' importante. La cifra dei 40.000 euro che ci sono stati riconosciuti da Fondazione Cariplo è riconosciuta per sviluppare tutto il progetto, il capitolato d'appalto ed arrivare in gara per individuare una ESCO, ossia ci affiancheranno tecnicamente e giuridicamente, perché qui ancora il tema è molto acerbo, diciamo così, bisogna stare anche attenti nello sviluppare accordi di partenariato verso il privato e decidere quale strada perseguire. Quindi cosa succede? Che questo finanziamento copre i costi di odite energetico degli stabili che decideremo di mettere in campo, lo sviluppo di tutta la documentazione tecnica per redigere un capitolato d'appalto e lo sviluppo e il supporto poi in fase di assegnazione dei lavori e quindi di costituzione di una commissione. Questo è uno dei canali, in parallelo però ci sono altre possibilità. Quindi diciamo che ci sono i classici contratti di gestione calore, allora anche con l'assessore Tiberio si sta cercando di contattare alcune società che sono preposte a questo tipo di attività per capire quali sono le marginalità per il comune di Mannate, oppure ci sono i contratti Consip, così come è fatto per l'illuminazione pubblica, dove ecco grazie a questo contratto Consip di 9 anni riusciamo a risparmiare dai 60-70 mila euro all'anno grazie alla sostituzione dei corpi illuminanti, anche per il termico Consip adesso ha un contratto. Quindi diciamo queste sono le tre strade che puntano a un efficientamento degli stabili da un lato e a un'ottimizzazione delle risorse dall'altro, perché si parla sì di sostituzione caldaia, si parla di cappotti, ma si parla anche di interventi un po' più ambiziosi, come che ne so il teleriscaldamento per piccoli ambiti, quindi questi saranno i temi da affrontare nei prossimi mesi. Più era giustare anche le finestre. Assolutamente. Questa è una... Gli spifferi si portano via tutto. Ad esempio quella che è fatta sulle scuole medie aveva non solo la finalità di mettere in sicurezza gli spazi e consentire agli alunni di riuscire a fare l'intervallo finalmente, ma anche quello di andare a risparmiare efficientando lo stabile. Purtroppo per l'edilizia di quegli anni e per la disposizione di quello stabile era un termosifone a cielo aperto, quindi sicuro bisognerà intervenire. Dopo tutte queste cose che in questi quattro anni sono stati fatti, io direi che potrebbero anche bastare, portarle a compimento in modo estremamente sempre più serio, ma c'è in mente ancora qualcosa sull'efficientamento energetico? Sull'efficientamento energetico quello che dicevo prima, quindi andare alla ricerca di una ESCO piuttosto che sviluppare contratti con società per la gestione dei calori e quant'altro, sono cose che ci impegneranno ben oltre l'anno che resta e quindi spero che è un po' il lasciare il testimone come chi ci ha preceduto, aveva avviato già degli studi, speriamo di aver intrapreso un percorso che darà frutti magari oltre l'anno atteso, quindi lavoreremo sicuramente anche con gli altri assessorati su questo, perché purtroppo sappiamo bene l'economia che possiamo metterci in prima persona sono molto esigue e perciò dobbiamo per forza puntare su questi altri canali. Ultima cosa, Rigi, il Parco dell'Anza, quindi è una gran bella cosa che Manatea ha, ma che comunque nel tempo si è sviluppata rispetto alla sua partenza originaria, molto scarna e soltanto magari di facciata. Anche lì ti sono girati ultimamente qualche soldo, che cosa i frequentatori del Parco dell'Anza potranno vedere, vedere se si può vedere, perché mica tutto si può vedere nel Parco dell'Anza, nel senso non perché sono nascosti, ma perché gli interventi non sono così visibili come un monumento. Cosa potranno capire? Allora, innanzitutto va dato a Cesare quel che è di Cesare, i soldi che girano per gli interventi che i cittadini vedranno breve derivano da un finanziamento fondi FAS del 2010. È stato riconosciuto all'ente Parco un importo di 400.000 euro per diverse tipologie di intervento. Si concretizzeranno cinque diversi interventi grossi. Il 1 è la fitodepurazione in comune di Cagno, poi ci sarà un adeguamento delle opere idrauliche presso il mulino del Trotto, una sistemazione del sentiero di Fondovalle in corrispondenza del traliccio di Terna, per intenderci appena dopo le cave di Molera, una passerella e quindi una riqualificazione sempre del sentiero di Fondovalle. Quindi, infatti, il ponticello, quello che noi chiamavamo il ponticello di Cantello. Non quello che attraversa il Lanza, ma quello che oggi, tra virgolette, porta dalle cave di Molera alla cosiddetta Porcilaia, quindi restando sempre in sinistra del Lanza. Ci sono altri progetti in essere che coinvolgono tra l'altro tutti e cinque i comuni, compreso anche Cantello, perché si stiamo sviluppando con loro il progetto e con la provincia, il progetto della famosa ciclovia che prevede tra le altre anche un'opera di attraversamento. Però lì faremo prima, secondo me, intervenire con opere minimali, col supporto di qualche associazione tipo Alpine o Protezione Civili, perché se aspettiamo l'opera definitiva non è quella finanziata, sono quelle lungo il torrente. Quindi le principali però riguardano la qualità del corso d'acqua, perché oggi, per diversi motivi, ci sono ancora degli scalichi che si andranno a sistemare. Questo è quello che deriva dal bando e dal finanziamento del 2010. In realtà, quest'anno, sempre la Regione Lombardia nell'ambito del FAS, ci ha riconosciuto un altro contributo, che è quello per andare finalmente a intervenire sul Fugasce. Anche lì il contributo che ci ha riconosciuto la Regione è relativo alla progettazione. Lì c'è ben altro che il ponte, c'è un tratto di un chilometro e otto tombinato sotto la città, che è diventato purtroppo fogna. Andare a agire su quello vuol dire spendere qualcosa come due milioni, però intanto abbiamo avuto il finanziamento per sviluppare il progetto definitivo di quell'opera lì. Capiamo bene tutti che cosa vuol dire anche i termini di qualità delle acque e di benefici che ne trae sempre Plis. Però non ho capito, vorreste pensare di riscoprire il Fugasce? Cioè ho capito così, ma no. Non si tratta di riscoprire, si tratterebbe di aprire e richiudere, però nell'operazione bisogna separare la rete fognaria da quello che è il corso d'acqua. Ma me lo lasci sempre sotto. Lo lascio sotto, ma entra Fugasce e desce Fugasce, mentre oggi entra Fugasce e desce Fogna. Ma mi hai preso in giro, su questo mi hai preso in giro, Rigi. È un progetto importante anche quello. Questo unito al fatto che il Plis, come dicevi tu, in questi anni ha subito una decisa metamorfosi. Tu lo puoi insegnare perché eri presente alla nascita del parco che oggi, tra le altre cose, oltre all'ingresso di un nuovo comune, può contare anche sulla collaborazione e il lavoro di queste guardie ecologiche volontarie. Quindi questa è persona a cui va dato il nostro ringraziamento per tutto quello che stanno facendo, oltre che per la tutela anche per la valorizzazione e il rilancio del parco, perché fanno un'importantissima attività anche di didattica e divulgazione. Quindi questa è una piccola perla che dobbiamo tenere. L'ultima cosa. Ma oltre alla lana di lataste, nel parco, riuscirò a vedere i caprioli o no? Ci sono ben altro che i caprioli, perché le fototrappole installate dalle guardie ecologiche hanno evidenziato la presenza, ad esempio, dei tassi di cervi e di altra fauna, che quindi mano a mano si sta spingendo sempre verso sud. Speriamo che venga sempre più ripopolata e sia sempre più biodiversità. Andranno a mangiare a crotto valtellino. Grazie, grazie Rigi. E buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.